Amiche e amici di SpazioGangs e belle persone in genere, è appena arrivato questo bel kit misterioso dedicato a Deathloop e vediamo subito cosa c'è dentro. Ehi là, animale da festa! Per celebrare il lancio di Deathloop su Xbox e Game Pass, oltre all'aggiornamento Golden Loop, ti abbiamo inviato la maschera da lupo dorata di Rexis Dorsey per consentirti di partecipare ai festeggiamenti sotto una nuova veste. Unisciti alla battaglia per Black Reef, che si svolgerà dal 26 settembre al 2 ottobre e gioca contro gli sviluppatori di Arkham Lion e usi tag Team Colt o Team Juliana per scegliere da che parte stare. E qui guardate, ci sono tutti i pezzi per comporre la maschera. Istruzioni per una maschera da lupo con tutta l'indicazione, questo è il risultato finale, si può proprio indossare. Per gli amanti del fai da te può essere una proposta veramente veramente interessante. Io comunque ne approfitto per ricordarvi che su SpazioGames trovate la video recensione completa di Deathloop. Adesso è arrivato anche sulle console di casa Xbox e lo trovate anche all'interno di Xbox Game Pass.